Siamo arrivati a metà percorso o meglio ancora? No, siamo all'inizio. Ah, siamo all'inizio, mi dice Alessia, che legora esperta. Arianna, come ti sembra? Bene, sono ancora viva. Siamo all'inizio? Dai, andiamo al lago. Ora si sai di brutto. Siamo pronti per me? Sì, non lo so. Beh, ci proviamo. Ci vediamo alla salita. Forza. E siamo arrivati. No. Ancora no. Quando arriviamo? Siamo a quota 2100. Un per un dislivello di 300 metri. Ce l'abbiamo fatto, siamo distrutti, ma siamo arrivati. Ora da questo punto siamo arrivati al punto di passaggio, giusto? Quindi da qui scendiamo raggiù. No, andiamo ancora in là. Quindi procediamo in senso orizzontale. Sì, esatto. Non è più verticale il percorso. Quindi foto. Foto, foto, foto. ragazzi. Che dire, è veramente meraviglioso venire da queste barre. Ti rilassa, l'anima, ti aiuta ad affrontare meglio la vita. Ciao. 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 Noi never be alone